Simone De Luca ha scritto sul Facebook di Paddy Power Finché gli arbitri saranno manipolabili, io sul calcio non ci scommetto. Ti ascoltiamo, Simone. E per questo abbiamo pensato ad una nuova figura. Arbitro degli arbitri! E se un altro arbitro non bastasse... Ecco che arriva l'ultimo grado di giudizio. PaddyPower.it, il nuovo servizio di scommesse online e mobile. Ti ascoltiamo, Simone. Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di anni 18. Gioca responsabilmente.